il video cv non è una replica del cv cartaceo quindi la cosa importante quando si realizza un video curriculum è quello di mostrare le proprie capacità le proprie competenze attraverso il fare operativo quindi per esempio io per far vedere che so girare che ne so un documentario posso organizzare tre sequenze in fila montate e dare un senso a questo racconto un saldatore può saldare far vedere le competenze le capacità di saldare due parti due componenti meccaniche per esempio e così via l'importante è attivare una creatività aggiungere qualcosa di inusitato di nuovo di come dire originale a ciò che già il vostro potenziale datore di lavoro legge quando scorre le pagine del cv tradizionale per quanto riguarda le video esplorazioni si tratta proprio di mappare con l'audiovisivo il territorio soprattutto quelle zone meno esplorate meno note quindi valorizzare delle cose che in genere sono sostanzialmente nascoste questo attraverso anche l'incontro con persone con associazioni con attività creative ricreative pensiamo ad esempio a tutto il mondo del teatro amatoriale che non è molto conosciuto però ci sono tantissime compagnie amatoriali che si organizzano creano spettacoli creano scuole creano socializzazione ecco questo è un esempio è una video esplorazione cioè il fatto di andare a indagare questo tipo di realtà per quanto riguarda invece il corso base si si stabilisce immediatamente con la metodologia che per noi è fondamentale che è quella della video alfabetizzazione multisensoriale cioè sono gli elementi basilari che costituiscono linguaggio audiovisivo attraverso una formazione una didattica contemporanea quindi non più mutuata dalle antiche scuole di cinema che lavoravano con strumentazioni meccaniche analogiche ma attraverso questa fluidità dei nuovi mezzi tecnologici del digitale che sono sempre in continua evoluzione ecco noi nei laboratori di base utilizziamo le ultime macchine che sono state prodotte gli ultimi programmi che sono stati creati sempre con l'idea di apprendere questo linguaggio che non è soltanto una competenza tecnica ma è proprio una competenza linguistica è una lingua l'audiovisivo e quindi bisogna imparare l'audiovisivo così come un tempo imparammo fin dall'elementari a leggere e a scrivere